Sembra essere tornata una serenità momentanea a Terzigno, è stata infatti una notte tranquilla la rotonda di via panoramica dopo gli scontri dei giorni scorsi. In pochi sono rimasti a presidiare la zona, causa anche la pioggia delle ultime ore. 13 camion carichi di terreno vegetale hanno sversato regolarmente permettendo così la copertura della discarica. La situazione era diventata insostenibile e tale operazione ha così rimediato, almeno in parte, ai miasmi provocati dalle forti proteste della popolazione vesuviana. Al subire gravi danni anche gli albergatori, circa un migliaio di persone che si trovano ora in difficoltà e che devono essere sostenute. È intervenuto in loro favore il sindaco di Bosco Reale, Gennaro Langella, il quale insieme agli altri sindaci della zona vesuviana ha nominato propri tecnici di fiducia che affioancheranno quelli della protezione civile per l'analisi del terreno e delle acque per appurare lo stato ambientale nella zona della discarica Sari. Una collaborazione che però, precisano i primi cittadini, tende comunque a confermare il no irremovibile all'apertura di una seconda discarica sul territorio. Intanto il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha incontrato oggi a Nagoya, a margine dei lavori della conferenza ONU sulla biodiversità, il commissario UE Potocnik, con il quale si è confrontata sulla questione dei rifiuti in Campania. Potocnik, ha annunciato il ministro, ha confermato il sostegno della Commissione europea all'Italia nel fronteggiare l'emergenza rifiuti.